Sono a Roma, in piazza, sta per iniziare il corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni per la pace contro la guerra, contro la guerra di Putin, contro l'espansione della Nato, contro l'invio delle armi nello scenario di guerra. Sì al cessato il fuoco, a corridoi umanitari, alla diplomazia, al dialogo, alla soluzione politica. Purtroppo l'Italia ha violato l'articolo 11 della Costituzione dove sta scritto l'Italia ripudia la guerra. Inviando armi non si ferma la guerra, si rischia di trasformare l'Ucraina in un Afghanistan europeo. Siamo vicini alla popolazione civile che sta soffrendo con morti e feriti, bombardamenti inaccettabili. Credo che bisogna fare dell'Ucraina un paese neutrale, ponte tra l'Occidente e l'Oriente per costruire una diversa e finalmente forte sicurezza europea. Senza armi nucleari non vogliamo essere fratelli e sorelle, tanto degli americani quanto dei russi, tanto degli orientali quanto degli occidentali. E accogliamo i profughi sempre, anche quando hanno gli occhi scuri e la pelle nera, perché non esistono profughi belli e profughi brutti, così come non esistono guerre giuste e guerre cattive. La guerra fa sempre schifo e siamo qui per la pace, con le mani che non sono sporche di sangue come quelle di chi utilizza le armi per trovare la pace.